C'è qualcosa che accomuna Giacomo Casanova a Gabriele D'Annunzio, Silvio Pellico a Dan Stemmingway, Goethe a Rousseau, Lord Byron a Charles Dickens? A Venezia tutti frequentavano il caffè Florian, anzi alla Venezia Trionfante, come venne inaugurato il 29 dicembre del 1720. Ma quasi da subito i veneziani preferirono semplicemente dire andemo da Florian, Floriano Francesconi, il suo proprietario. Il caffè ha un successo enorme perché diventa la bevanda degli illuministi e ce ne sono talmente tante che a un certo punto la Repubblica è costretta a contingentarne il numero. Non possono essere più di 206 ma quella di Florian Francesconi è la più famosa perché come spesso succede è la sua personalità, il fatto che era una persona simpatica, amabile, una persona di cultura. Per cui attorno a lui arrivano personaggi come Carlo Goldoni che si ispira alla figura di Ridolfo per la sua bottega da caffè, arrivano personaggi come Giacomo Casanova, arrivano i fratelli Gozzi che distribuiscono proprio al Florian la prima gazzetta, il primo giornale moderno, la Gazzetta Veneta. In 300 anni di storia qui se ne sono viste di tutti i colori, un po' come quelli delle bandiere che dalla Serenissima alla Francia all'impero asburgico fino al Regno e alla Repubblica d'Italia hanno sventolato nei pennoni di piazza San Marco di fronte al caffè. Il Florian è sempre rimasto aperto anche nei momenti più difficili, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, 1848, pensate addirittura quando Venezia insorge contro gli austriaci, Daniele Manin prende un tavolino del Florian, ci sale sopra e proclama la Repubblica. Quindi il Florian è sempre stato cuore pulsante della città lagunare. Ci voleva il 2020 e l'arrivo del coronavirus nell'anno del suo trecentesimo compleanno per bloccare così a lungo l'attività del caffè Florian e dei suoi 70 dipendenti. La pandemia ha colpito duro anche qui, presente e futuro appaiono incerti, ma tre secoli di storia appena compiuti rappresentano probabilmente il viatico per affrontare qualsiasi difficoltà.